Senza un congresso cittadino del Partito Democratico non si può pensare all'unione delle forze di sinistra, come auspicato dal neoconsigliere Guido Riccio. Parla il consigliere del PD di Ariano, Antonio Santosuoso, candidato a sindaco alle amministrative di un anno fa con la lista Ariano Cambia Procevitate. La mia posizione, che è la posizione dei democratici per Ariano, l'abbiamo chiarita al momento in cui abbiamo deciso di aderire al Partito Democratico. E' quella di celebrare innanzitutto un congresso cittadino che oggi ancora non viene celebrato e noi chiediamo con forza alla segreteria provinciale di celebrare subito un congresso cittadino che possa fare chiarezza su tutto, dopodiché sicuramente si può andare anche a un gruppo unico del Partito Democratico, ma solo dopo un congresso che sia un congresso vero, perché dall'altro noi come democratici italiani, stiamo costituitici subito nel primo consiglio comunale, abbiamo chiarito che vogliamo costruire un nuovo Partito Democratico. Con questo Partito Democratico attuale noi insomma abbiamo le nostre perplessità. Il consigliere d'opposizione, presidente della commissione assetto del territorio, ribatte a chi lo accusa di essere stato ambiguo e di aver appoggiato la maggioranza. Le accuse arrivano sempre dalle solite persone, dal solito vecchio apparato. C'è stata una volontà da parte anche della maggioranza, devo dire la verità, di indicare me in quella commissione assetto del territorio, urbanistica e lavori pubblici, dove in effetti si è scelta una competenza per dare alla città un segnale di competenza che va al di là degli schieramenti e che può essere istituzionale. Io nel mio lavoro che ho percorso in questo anno, devo dire la verità, con grande entusiasmo, ma anche con grande collaborazione da parte di tutti i componenti della commissione, ho lavorato sempre in maniera trasparente, quindi per cui queste richieste continuano, sono da un anno che arrivano, sinceramente è arrivato il momento di chiudere questa vicenda e capire che c'è un momento in cui la città ha bisogno di risolvere alcune delle tante problematiche che ci sono, quindi per cui polemiche non le facciamo più. Cimitero e traffico a Cardito, queste le questioni da risolvere nell'immediato e queste le proposte della minoranza. Su Cardito, traffico di Cardito, abbiamo fatto una proposta omogenea, che è quella di evitare la svolta a sinistra, di creare delle rotatorie e ne abbiamo individuate anche tre nel percorso che va dalla rotatoria attuale di Piaunezona, una all'altezza dell'ingresso della comunità montana, degli uffici della comunità montana, un'altra a Stillo, che tra l'altro è stata già in via di progettazione definitiva, e un'altra addirittura, io feci questa proposta in consiglio, di farla a Santa Barbara, dove naturalmente, insomma nel bocco di Santa Barbara, naturalmente c'è uno spazio importante dove si potrebbe realizzare. Abbiamo discusso del cimitero, tanto insomma se ne dibatte tanto di questo argomento. Noi ci diamo di fronte lì a un contratto che è stato sottoscritto dalla vecchia amministrazione, per cui noi dovremmo capire, abbiamo detto, secondo noi quali sono le modalità per poter uscire da questo impasse con delle soluzioni, anche qui semmai sedendoci con il concessionario e capire quali sono le possibilità per affrontare bene la situazione, uscirne e mettere in atto questo processo. Poi abbiamo portato all'attenzione del Consiglio alcune attività riguardanti la ricostruzione del quartiere San Stefano, dove me ne sto occupando in maniera principale, e anche lì siamo riusciti, devo dire la verità con un po' di impegno mio personale, ma un po' di tutti, siamo riusciti a sbloccare delle isole che erano ferme da tantissimo tempo e stiamo lì per dare inizio ai lavori e quindi per dare un po' di ossigeno anche all'economia locale.